E' stato rinviato per sopravvenuti motivi di carattere istituzionale il primo congresso provinciale del PDL. Altro rinvio per il Popolo delle Libertà e Ibleo, che ancora una volta è costretto a rimandare a data da destinarsi il primo appuntamento congressuale della provincia di Ragusa. Se nel marzo scorso a far esaltare il congresso è stato il ciclone Atos abbattutosi nella Sicilia sudorientale, ora pare sia colpa dei vertici romani che non hanno autorizzato i vertici provinciali. allo svolgimento dei lavori congressuali previsti per sabato 28 aprile dalle ore 9 alle ore 17 nell'auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa. Il congresso sarebbe servito a dare struttura e forma al partito, nonché alla nomina del primo coordinatore provinciale. Due candidati alla segreteria provinciale, Salvo Mallì e Paolo Santore, entrambi ex assessori provinciali. Intanto l'annuncio di un ulteriore rinvio non lascia indifferente il mondo della politica, tenuto conto che a non autorizzare la celebrazione del congresso è stata proprio la segreteria nazionale. Nulla di strano che dietro si cieli nei movimenti interni al partito dell'ex premier Silvio Berlusconi e la sua volontà di voler dare una nuova identità alla coalizione di centrodestra. Intanto l'idea di un partito unitario con l'aspirazione di un nuovo inizio, almeno in provincia di Ragusa, dovrà attendere. Grazie